ah no, non è fuori la luce del sole è Tamara Malleo che è entrata in studio buongiorno Tamara buongiorno Fabio, la luce c'è anche fuori te lo dico buongiorno buongiorno agli ascoltatori di Cristal Radio di Cristal Radio e di Good Money Emiliano grazie per l'ospitalità perché mi piace molto voi avete mai visto il sole e Tamara Malleo insieme nella stessa stanza? io dico questo come Clark Kent e Superman qualcuno vorrebbe non vedere Tamara Malleo in una stanza però vabbè fa niente io il dubbio ce l'ho che bello Fabio posso rubarti due minuti all'inizio perché così almeno non lo facciamo alla fine e invertiamo le modalità allora volevo prima di tutto ringraziare Fabio perché mi ha fatto fare questa esperienza bellissima di questo viaggio nella radio e qua in questo spazio bellissimo parlando di teatro che è una delle mie grandi passioni quindi sono molto contenta e ti ringrazio noi quindi non ci sentiremo mai più no no era solo per ringraziare a settembre ci ritroviamo se vuoi ci sono io non lo chiedo mai lo chiedo in onda così non potete dirmi ah no che palla volevo dirti di nuovo volevo dirti invece sempre se ci saremo perché sai nella vita non si può mai dire e questo fa capire perché poi ci propone certi spettacoli Tamara Valleo ma infatti ma anche oggi parleremo di questo no bene benvenuta all'estate allora Tamara no estate che dicevamo è in realtà la stagione in cui il teatro cerca di seminare il più possibile in giro no perché appunto i cartelloni sono chiusi diciamo ma ci sono le rassegne estive più o meno sì ci sono rassegne estive ci sono spettacoli estivi nel senso che per esempio io ieri sono andata a Baggio e perché la compagnia Oies in questo momento è in scena con uno spettacolo itinerante in cuffia per scoprire il perché loro fanno una serie diciamo così hanno iniziato con si chiama diciamo gli spettacoli si chiama parchi sommersi parchi sommersi sì hanno iniziato col parco Lambro sono passati al parco Nord adesso è il parco delle cave al centro del loro vi viene da dire che effettivamente il parco Lambro e il parco Nord spesso sono sommersi o dal Lambro dal Seveso effettivamente Codibaggio Codibaggio si salva in realtà loro raccontano diciamo così l'essere sommersi dall'essere dimenticati in qualche modo dalla città e invece loro cercano di riportarlo di riportare questi parchi alla luce ma quindi lo spettacolo ha a che fare con il luogo in cui viene fatto proprio assolutamente perché loro crearono una storia ma questa storia è nutrita dalle voci del quartiere cioè tutte le persone che vivono il parco in maniera diversa lo hanno vissuto perché per esempio il parco delle cave è un parco che è cambiato molto nel tempo quindi hanno ascoltato le voci di molti uomini e molte donne che sono cresciuti nel parco delle cave quando ancora il parco non aveva le cave diciamo così ed era anche una zona molto pericolosa non è stato proprio il massimo esatto invece adesso ci hanno raccontato ieri che la presenza delle lucciole che non c'è in questo periodo ma fino a fine giugno ci raccontano di quanto si è pulita l'area perché le lucciole vanno solo nelle zone pulite e quindi ci raccontavano questo e devo dirvi che questo viaggio che voi potrete fare fino al 4 di luglio è un viaggio bellissimo perché è anche temporale nel senso che si inizia con la luce piena e si finisce col crepuscolo forse anche un po' di più quindi in realtà si vede la zona di Baggio e del parco delle cave mentre il sole ci abbandona e quindi in una trasformazione anche proprio visiva oltre che di racconto e si parte dalla biblioteca di Baggio giusto? si parte dalla biblioteca di Baggio che è il punto di ritrovo e si arriva al centro del parco delle cave ecco questo per capire un po' appunto quello che Tamara fa durante la settimana che va in giro a provarle le esperienze che poi ci viene raccontare qui non è che ci dice andate lì ma mi hanno detto che non è una cialtrona come me che vede le robe dei giornali ma in realtà è una passione quindi mi piace andare mi piace condividere e mi piace poi raccontare quello che vedo allora su questa passione ci troviamo dopo la prossima canzone perché fuori ronda la bravissima Elisa Galmarini che è molto più brava di me a fare domande è molto brava devo dirgli sì mi mancherà tantissimo ti ha chiesto da cosa nasce questa tua passione per il teatro e la risposta mi ha lasciato davvero mi ha colpito molto perché non è la solita banalità non sapevo cosa fare mi piaceva esprimere mi piaceva vedere la gente no è molto più profonda come ovviamente non c'era da aspettarselo da Tamara e quindi un po' di musica e poi torniamo con insomma Tamara la passione del teatro da cosa è nata la tua e da cosa può nascere in realtà nelle persone comunque avrai sicuramente parlato coi tuoi simili per intenderci no ok andiamo con un po' di musica welcome to Kingston welcome to the WRTB International no sembrava veramente stare a Kingston Jamaica invece eravamo solo con i Neri per caso ma ricordiamo i Neri per caso che per noi degli anni insomma di un tempo sono stati noi degli anni di un tempo perché non può dire di che anni è la canzone era del 91 del 91 eh vabbè io sono del 78 negli anni 90 ti stavo dicendo vabbè quindi aveva appena iniziato elementari volevo dirti invece quindi invece vabbè niente basta le cantavo tutte 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 anche se sono stonata infatti la canto tutte anche il whatsapp che è appena arrivato al 331 7853555 appunto che ci scrive la canto tutta così immagino mani sul volante non potete fare tecchette tecchette io però venendo qua un po' accantato ferma il semaforo anche con una colografia sei in macchina non hai preso i mezzi è perché devo andare poi ah devi andare d'altre parti ecco perché dicevamo appunto questa passione per il teatro come è nata in te e come secondo te visto che sicuramente avrai parlato con altri come senti che nasce nelle persone allora questa è una domanda che mi faccio sempre come può nascere la passione del teatro perché soprattutto in questo periodo si parla molto di un problema sul pubblico su chi va a teatro su quanto si va a teatro su chi sceglie di andare a teatro ti dico che non lo so come può nascere la passione io ti dico che io per esempio racconto del teatro perché voglio condividere questa passione penso che condividendo cose belle storie belle condividendo delle riflessioni profonde che il teatro fa perché è un rito sicuramente può portare qualcuno a non so a condividere questa idea e a pensare che il teatro possa davvero diventare un'abitudine perché perché io stessa ho trovato nel teatro una cosa bellissima secondo me cioè ho ritrovato in molte storie rappresentate sul palco la descrizione a parole di sentimenti che io stessa facevo fatica a riconoscere in me e a trovare le parole per poterle raccontare invece molti spettacoli mi hanno restituito la possibilità di ritrovare in me quella definizione o quella più che altro quelle parole che potessero rendere quei sentimenti reali e lo trovo anche importante per invece delle riflessioni sulla realtà sul contemporaneo andare a vedere degli spettacoli che ci raccontano storie non per forza del presente ma anche del passato ma che ci riportano fortemente a delle riflessioni contemporanee ci spingono a fare delle riflessioni in un luogo protetto perché il teatro secondo me è un luogo protetto è un luogo dove ci può essere grande libertà ma quella libertà deve essere secondo me gestita con intelligenza e moltissime compagnie lavorano perché questo accada per esempio dimmi faccio un aggancio immediato perché stasera al teatro Franco Parenti ci sarà il debutto della nuova produzione del teatro De Gordi il teatro De Gordi è una compagnia secondo me molto interessante perché perché fa un teatro quasi sempre senza parole e tu dirai ma come tu ami così tanto le parole sì loro creano una drammaturgia fortissima ma in scena poi utilizzano il corpo le espressioni diciamo così del corpo e usano anche qualche parola ma sostanzialmente le loro storie sono storie dove le azioni che compiono raccontano quello che la storia e devo dirti che il comune denominatore di tutti i loro spettacoli è la morte ah bene è una cosa ma perché 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 ci accomuna tutti effettivamente prima o poi abbiamo tutti a che fa con quello però lo fanno in maniera molto a volte molto dolce sempre con grande ironia e per me il loro spettacolo più bello personalmente si chiama visite ed è uno spettacolo molto malinconico perché racconta la storia di alcuni anziani che si ritrovano in una casa di riposo e ricordano il loro passato in quel passato c'è tantissima storia ma anche il loro presente racconta delle storie e quindi raccontano di un'età che non viene quasi mai rappresentata che è la vecchiaia ah ok che viene sempre dimenticato che viene messa da parte perché ci fa paura vederla rappresentata questo per questo dico che il teatro secondo me è molto potente e se penso al cinema infatti uno dei film che si parla più di vecchiaia è Cocoon dove si cerca di non parlare di vecchiaia effettivamente cioè si va subito così è perché ci fa e invece il teatro secondo me deve raccontare anche quello che ci fa paura attraverso linguaggi diversi però ci deve raccontare anche quello perché noi sfuggiamo da questo e invece il teatro ci porta verso in quella direzione a volte e stasera appunto loro debutano con note a margine che è una storia che si svolge all'interno di una intorno a una cassa di un morto dove tutte queste persone si ritrovano e quindi la compagnia dei gordi si ritrova ognuno con una storia diversa e riflettono su quello che li accomuna ma anche su quello che li differenzia ed è una riflessione loro lo fanno sempre è una riflessione sulla vita sull'esistenza su ciò che siamo e su ciò che vorremmo essere peraltro loro lavorano anche molto sulle maschere e lavorano a livello proprio artigianale le costruiscono le maschere e molto spesso nello spettacolo è possibile toccare queste maschere loro ci tengono molto che il teatro si ricordi che il teatro è anche un lavoro artigianale e quello non può essere sostituito da nulla e no non c'è intelligenza artificiale che possa fare nulla e neanche stampante 3D in quel caso ricordiamo bene dove e come? Teatro Franco Parenti solo stasera noti a margine e poi sarà presente lo spettacolo nella stagione del teatro Franco Parenti un anteprima un antipasto un aperitivo di stagione ok perfetto assolutamente andiamo ancora con un po' di musica e poi torniamo ancora qui a parlare di teatro parlare di insomma tutto quello che dovrebbe diventare come diciamo sempre una nostra abitudine giusto? ok qui sempre con Tamara Valleo su Crystal Radio Good Morning Milano la prossima canzone Tamara la dedichiamo a te e zucchero per colpa di chi? per colpa di Tamara Valleo che ormai siamo tutti malati di questa bellissima malattia che è il teatro eh sì magari fossimo tutti in realtà diciamo che ci stiamo provando perché il pubblico a Milano diciamo che il Milano è una città con un pubblico molto che frequenta molto i teatri ed è un pubblico anche molto severo ecco volevo chiedere proprio del pubblico brava mi è dato l'assetto di parlare di pubblico il pubblico del teatro nel senso che io sto pensando al pubblico della musica però tu non pensi al pubblico della musica pensi al pubblico di Vasco ne parlavamo poco fa al pubblico di Sfere Basta e quindi molto cioè è quello sì magari ci sono artisti non so tipo se viene in mente Cremonini forse che è un po' più largo e non è proprio così cioè non è lo stato sociale invece sono quelli lì che vanno a vedere sociale con la maglietta di emergency cioè io sono a vedere lo stato sociale se dobbiamo nel senso è quello no? ci sta infatti il teatro invece è molto più ampio molto più ampio molto più vario rischi che nello stesso spettacolo hai il ragazzo di 15 anni quasi e la signora di 90 ma è quella la cosa più bella perché se ci va la signora di 90 e il ragazzo di 16 ne dico 16 non a caso perché è difficilissimo vedere un ragazzo di 16 anni che vada volontariamente a teatro allora è un grande risultato perché vuol dire che lo spettacolo è uno spettacolo che veramente è una storia universale cioè una storia che può colpire l'attenzione di un ragazzo o di una ragazza molto giovane e di una diciamo così di persone di età un po' più avanzata però il problema del pubblico è un problema reale perché perché i ragazzi molto giovani cioè quelli che vanno dalla fascia i bambini e le bambine quindi fino ai nove anni diciamo che ci sono degli spettacoli dedicati anche se io ritengo che tutti gli spettacoli belli possono essere rivolti a un pubblico diciamo così di tutte le età però è chiaro che per i bambini e le bambine c'è un'attenzione maggiore a dei temi a un linguaggio che loro possono comprendere visto che hanno meno filtri rispetto ad un adulto e quindi per comprendere una storia devono essere accompagnati in quella storia per ragazzi diciamo così più grandi quindi dai 14 15 anni fino ai 20 per loro il teatro è scuola quindi vanno a teatro solo perché li porta alla scuola e molto spesso a scuola si va a vedere diciamo degli spettacoli delle rotture assurde diciamo nel senso che non sono spettacoli che possono colpire la loro attenzione perché sono trasposizioni dei grandi classici ma fatti in maniera molto tradizionale ultimamente invece ci sarebbero le alternative assolutamente ci sono molte compagnie che ultimamente ti dico una fra tutti la confraternita del Chianti la confraternita del Chianti si la confraternita del Chianti con Marco Di Stefano ha portato in scena per alcuni anni una locandiera che era diciamo così inserita all'interno di uno spazio contemporaneo però mantenendo esattamente il linguaggio di Goldoni e devo dirti che c'era una partecipazione molto diciamo vivace del pubblico l'ho visto in una scolastica e devo dirvi che è successo con lui con la sua compagnia ma è successo anche con la locandiera di Andrea Chiodi che per esempio ha portato una locandiera molto vivace tutti che portano la locandiera è pop-op diciamo che Goldoni si adatta diciamo così molto ad una visione e il protagonista è la Tindoro Granata che è un autore e un artista spesso lo nominiamo nei tuoi momenti perché mi piace molto e perché fa un percorso di narrazione teatrale se sei un ascolto appunto sappi che insomma c'è una Tamara Marleo a cui piaci molto chissà cerchiamo anche di trovare no no ma io sono molto affezionata a Tindoro perché ha fatto un percorso bellissimo e sta portando avanti un percorso bellissimo per esempio sull'ultimo spettacolo vorrei una voce raccoglie le voci delle donne in carcere a Messina dove lui ha fatto un laboratorio e poi ha deciso che quelle voci dovessero essere ascoltate fuori dal carcere e ha usato Mina come mezzo di come un tramite diciamo così e devo dire che lui fa sempre dei lavori socialmente molto coinvolgenti diciamo così perché crede che dove c'è dove c'è il buio il teatro possa portare la luce che è una cosa che condivido molto con lui dove c'è tinder o c'è luce potrebbe essere anche devo dire la verità che dove c'è tinder o c'è luce e ci saranno poi moltissimi altri progetti che lo vedranno coinvolto poi nella prossima stagione di cui parleremo e quindi appunto ne sentiremo parlare sicuramente siamo ben contenti perché poi ci sono questi nomi queste compagnie che tornano perché fanno davvero delle operazioni molto interessanti molto interessanti devo dirti un'altra cosa per esempio visto che stavamo parlando di quest'estate a me piace molto visitare l'Italia attraverso i festival sì mi l'avevi detto già mi piace molto sono curioso di sapere le tappe perché credo che il teatro possa in qualche modo spingerci a incuriosire il nostro desiderio di vedere qualche altra città che magari già conosciamo ma la possiamo vedere attraverso altri sguardi per esempio è partita da qualche giorno l'estate veronese e nell'estate veronese dove ci sarà al teatro romano diciamo così il quartier generale cioè il centro di molti spettacoli saranno in scena Filippo Dini che è il direttore artistico del teatro del Veneto con due suoi lavori su Shakespeare perché diciamo che il tema principale è Shakespeare anche qua il classico che loro portano in scena con una grande diciamo così con uno sguardo contemporaneo ma anche coraggio perché uno dice no ancora Shakespeare ma ancora e invece poi e ti dico che il 25 il 26 di luglio io andrò a vederlo ci sarà un sogno di una notte di mezz'estate quindi un grande classico con la regia di Veronica Cruciani ci sarà Lodo Guensi e Sara Putignano protagonisti del sogno e Paolo Mazzarelli più una compagnia che porterà appunto il sogno a Verona e devo dirvi che sarà una perché Veronica Cruciani è una regista che porta sempre con grande originalità i classici lavora da qualche anno su Shakespeare portando sempre delle grandi novità tu dirai come si porta una novità in Shakespeare è coraggioso per quello perché appunto il rischio è quello di dire no Shakespeare invece devi cercare i dettagli in questo caso si lavora molto appunto sulla musicalità che è già del mondo di Shakespeare ma che in questo caso si porta ad una contemporaneità con la presenta uno dei miei film preferiti comunque è Romeo più Juliet che secondo me è una delle più grandi trasposizioni moderne di qualcosa di un classicone e a prescindere da DiCaprio cioè quel film mi piace comunque stamattina siamo un po' un po' maliconici sul passato solo? senti adesso cosa ti metto invece cosa andiamo ad ascoltarci adesso qui intanto voi a casa prendete carta e penna perché dopo torniamo qui diamo appunto i consigli sull'estate e non è solo uscite le ore calde e bevete tanta acqua ma i festival e i posti dove potete andare a conoscere il teatro anche quest'estate ma magari altri anteprime che poi magari potete ritrovare poi nelle varie cartelloni di stagione quindi andiamo con un po' di canzoni e andiamo un po' adesso con un punto un classicone non annuncio neanche ascoltatela sicuramente anzi fate così cantatela tutta se dovete ballare fermate la macchina scendete dal tram no sul tram potete anche ballare se volete magari così trovate qualcun altro che voglia ballare con voi magari chissà è l'inizio di una bellissima storia ed eccoci qua Luna Pop ci siamo proprio buttati negli anni 90 questa pensa che è anni 90 per un pelo perché è 99 sì però quel periodo bello nel 99 avevo che tra parentesi ricordo sempre però così piccola nota che in realtà racconta però una modalità che in realtà non era tanto nostra perché noi non siamo quelli della Vespa sono quelli più di noi quelli della Vespa noi avevamo il boost eravamo quei motorini lì un po' più automatici loro cantavano non facciamo forse è quella c'era quella malinconia di quell'epoca che era tutto spenserato perché alla fine degli anni 90 non è che proprio eravamo spenserati adesso pensiamo che eravamo spenserati ma in realtà vabbè pensa che mi stanno messi adesso a proposito prima di continuare ma vogliamo ringraziare Elisa ma sì lo faccio tutti i giorni però prego bravissima Elisa è bravissima la conversazione con lei è molto interessante e poi c'ha questo sorriso accogliente che è bellissimo infatti mi mancherà mi mancherà mi mancherà ti devo far capire come posso essere la producer per fargli un corso di sorriso accogliente va bene Elisa ti prendiamo per fargli un training ciao Beatrice si può essere anche un uomo ciao Beatrice no no Beatrice sono già chi sarà ho già la mia squadra di settembre Beatrice ma tu scegli le donne ma tu scegli le donne perché sono preparatissime posso dire la verità puntuali no posso dire la verità perché sono più svegli dei ragazzi a quest'età dico la verità sono più svegli c'è poco da fare non solo a quest'età un saluto a Federico che adesso arriverà appunto al nostro social media manager però sì sono più svegli cioè i colloqui sono sempre presenti al mattino non si addormentano mai pazzesco la roba lì è pazzesca abbiamo pochi minuti ma vogliamo sapere appunto che cosa dobbiamo fare quest'estate non abbiamo ancora neanche fatto lo zaino la borsa la valigia perché stiamo aspettando le tue indicazioni allora vicinissima appunto l'estate veronese che è ricca di appuntamenti fino a settembre potete trovare lo spettacolo più che vi incuriosisce di più ma per andare un po' più lontano io vi consiglio sempre il Kilowatt Festival Kilowatt Festival Kilowatt Festival da più di vent'anni è l'energia della scena contemporanea si svolge a Sansepolcro che è La terra natia di Piero della Francesca ah ok si lo sapevo e quindi potete vedere anche alcune delle sue opere ho fatto la pausa sapete Topolino quando fai video che dice adesso bambini ma non lo sapevo neanche io fa la pausa e poi i bambini devono rispondere prima di andarci ah ok Sansepolcro Sansepolcro paesino delizioso che si anima in questa settimana cioè nella settimana in cui vi dico cioè dal 12 al 20 luglio è un festival bellissimo che riguarda sia il teatro che la danza che la performance che spettacoli per un solo spettatore che momenti di grande convivialità è uno dei festival più umani nel senso che è proprio attento Lucia Franche e Luca Ricci che sono i due la direttrice il direttore artistico di questo festival peraltro anima fondatrice del festival stesso peraltro sono anche fondatrici della compagnia Capotrave che appunto è alla diciamo così all'origine del festival del Kilowatt Festival che fa attività tutto l'anno con degli spettacoli molto belli fa una programmazione di Kilowatt tutto l'anno sia a Sansepolcro che in Europa perché fa parte di un progetto europeo e dal 12 al 20 troverete un programma ricchissimo quindi potrete vedere non soltanto la città di Sansepolcro ma anche tutta la valle intorno che è bellissima da visitare è una zona pazzesca in Toscana al confine con Lune e con le Marche una roba che non è dove volete l'anno scorso sono andata a Recanati a vedere la casa di Leopardi e tutta la zona diciamo che ha ispirato Leopardi sempre te mi allegri tutti gli allegroni a me piace Sansepolcro quindi provincia di Arezzo 15.000 abitanti si è piccolino però si anima 90 km quadrati ho la scheda qua davanti adesso subito sono andato a cercare sai come si anima durante il festival bellissimo poi c'è musica c'è un dopo festival ricchissimo e poi c'è veramente ci sono dei momenti di aggregazioni reali perché il festival soprattutto quelli teatrali dovrebbero spingerci a conoscere persone nuove a confrontarci sugli spettacoli a vivere l'umanità giusto sai come si chiamano gli abitanti di Sansepolcro no non lo so si chiamano Biturgensi adesso posso andare quest'anno al festival e dire ciao Biturgensi un saluto a tutti i Biturgensi qui presenti grazie per colmare le mie lacune che sono tante in questo caso a me ho fatto la cosa peggio del mondo Wikipedia è proprio una cosa che chiunque può fare comunque ci aiuta per colmare le nostre lacune quindi prendendo sempre con le pinze le informazioni che do da Wikipedia comunque va bene quindi Sansepolcro dove possiamo andare da altre allora ce ne sono veramente tantissime c'è anche adesso Sant'Arcangelo che parte la prossima settimana siamo in Romagna Sant'Arcangelo di Romagna poter andare al mare c'è il castello bello Sant'Arcangelo come si chiamano gli abitanti di Sant'Arcangelo? non li so Sant'Arcangiolesi adesso ho scoperto adesso ho scoperto che su Wikipedia come si chiamano gli abitanti di cioè io adesso questa rosa la vado a vedere in tutti i paesi adesso guarda vediamo vai avanti c'è qualche città vogliamo dire come si chiamano gli abitanti di Baggio? Baggesi quello è facile sei sicuro? sì controlla vabbè nel caso controllo abitanti di Baggio siamo chiamati Baggesi noi e invece no ma come si chiamano? eh guarda e non c'è scritto perché è un quartiere Baggiani Baggiani ma non ci credo dai può essere così vabbè così così so che la Baggina si chiama la Baggina che è la casa si chiama così perché è la sua storia che andava a Baggio la sua storia che andava a Baggio ma dai Baggiani io continuo a chiamarmi Baggesi Baggesi va bene non credo che nessuno ti abbia detto niente quindi apposto così no ma anche Baggiano sembra un po' quasi un insulto comunque vedi è perché noi carichiamo le parole di un significato che in realtà in sé non contengono il teatro ci insegna questo è vero è vero a svuotare le parole di un significato che noi gli diamo per restituire invece il significato originale giusto se non andiamo a Baggio non andiamo a Sant'Arcangelo tutti i santi tra parentesi Sansepolcro Sansepolcro infatti Baggio c'è Sant'Apollinare dove possiamo andare? Cilentart andiamo in Cilento ok da non confondere col Salento Vittorio Stasi Vittorio Stasi ha creato questo festival molto bello dove il teatro abbandona i luoghi tradizionali cioè quelli proprio teatrali per entrare dentro la natura e quindi gli spettacoli si adattano alla natura perché il set di questi spettacoli sarà proprio Scorci Naturali del Cilento bellissimo e devo dire che ci saranno grandi artisti tra cui Silvio Orlando insomma grandi nomi che Vittorio Stasi Silvio Orlando che ricordo sempre di essere arrabbiatissimo con tutta la sua cricca Salvatore perché è l'unico che non ha vinto l'Oscar perché non c'era quindi diceva ma come l'unico film che non ho fatto con voi avete vinto l'Oscar succede succede a volte così un po' arrabbiato accade questo e gli altri ovviamente lo prendono sempre in giro vabbè ci sta comunque Tamara siamo quasi in conclusione però se ne è ancora uno puoi dircelo ma è così bello stare qua il tempo passa in un lampo noi il 9 settembre siamo di nuovo qua quindi adesso non lo so Elisa c'è il calendario dietro qual è il primo giovedì dopo il 9 settembre vediamolo il 13 il 12 che è il mio compleanno pure 12 confermi 12 settembre aspetta che sta cercando di tradurre un calendario è un calendario ci sono i mesi i giorni non è difficile allora tratta bene Elisa tratta bene Elisa abbiamo detto sono un mese diciamo che è prevista non è capace di aggiungere un calendario forse ma non è che non è capace era lontano il calendario non poteva fare due cose comunque 12 settembre 12 settembre il tuo compleanno semi-compleanno pure allora festeggeremo il compleanno insieme a Tamara adesso lo segniamo segniamo sul calendario perché mi dimentico come ho fatto come dice che ho fatto col suo compleanno non è vero l'ho tenuto solo a fine trasmissione l'ho fatta gli auguri prima c'ha un po' ragione ma no ma glielo ho fatto a fine trasmissione si fa l'inizio ma no me l'ho posta alla fine volevo far salutare guarda che se me li fai alla fine immagino che tu l'abbia dimenticato segnamolo per favore Elisa sul calendario grazie Tamara buone vacanze teatrali da quanto ho capito insomma andrei teatrali in giro per teatrali festival si auguro a tutti e a tutte delle buone vacanze delle buone letture dei buoni spettacoli ma soprattutto di trovare la propria strada che non sia quella definita dagli altri ma la propria strada le proprie vacanze e il proprio modo di vedere la realtà quindi speriamo che tutto questo possa accadere a volte non è così facile e quindi Tamara ma Leo grazie grazie